La prossima amministrazione regionale sarà chiamata ad affrontare un quinquennio determinante per fronteggiare la sfida della crisi climatica e realizzare le azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo globale rispetto al contenimento dell'aumento della temperatura media terrestre entro 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale. Tuttavia, secondo il rapporto dal titolo scaccomatto alle rinnovabili di Legambiente. In tema di energia, l'Abruzzo sembra andare a rilento rispetto a quelli che dovrebbero essere i numeri di installazione annuale per raggiungere gli obiettivi climatici fissati al 2030. Per questo Legambiente Abruzzo propone ai candidati 10 punti su cui incentrare la prossima azione di governo verso il tema della sostenibilità. I rapporti presentati oggi da Legambiente Abruzzo fanno il punto sulle comunità energetiche e le energie rinnovabili in linea con la transizione energetica. Qual è il quadro generale? Sì, è un quadro abbastanza preoccupante perché la regione Abruzzo è indietro per quanto riguarda il discorso della transizione ecologica e quindi lotta ai cambiamenti climatici. Il nostro obiettivo principale è appunto decarbonizzare e farlo in maniera veloce, farla bene e farla in maniera veloce. Oltre ad avere un quadro normativo e nazionale e regionale abbastanza datato e confuso abbiamo il problema delle lungaggini, delle autorizzazioni sia dal punto di vista strettamente ambientale che quello paesaggistico. Per noi è fondamentale la tutela della biodiversità, l'economia circolare, la riduzione degli impronti carbonici. Riguardo la situazione attuale che purtroppo vede l'agricoltura e gli agricoltori in rivolta non solo in Italia ma in tutta Europa, siamo convinti che la sostenibilità sia l'unica risposta che ad oggi possiamo dare agli agricoltori perché tramite la sostenibilità l'agricoltore è tutelato e dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista del reddito. Noi come lega ambiente intendiamo fare questo tramite dei modelli virtuosi come i biodistretti, di fatti stiamo iniziando un lavoro per la costruzione di un biodistretto interregionale in collaborazione con tutti quanti gli enti e le società e le organizzazioni biologiche dei territori.